Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi del Corsair Knights World, un mouse da gaming molto comodo, molto accattivante, esteticamente parlando, che potete acquistare su Amazon attualmente ad un costo di 90€ circa. Il mouse è USB, non potete scollegare il cavo, quindi non è wireless. Questo mouse qui non è wireless, quindi se lo acquistate tenete presente questo. È un mouse da gaming con la G maiuscola, quindi pensato principalmente per il gaming. Naturalmente potete usarlo anche per altri scopi, ma è principalmente per il gaming. Ora, io sono un tipo molto esigente per quanto riguarda i mouse. Se avete visto diverse dei miei video, avrete notato che cambio spesso mouse. Questo perché sono un tipo molto esigente, sia per quanto riguarda le tastiere che i mouse. Questo mouse mi ha veramente soddisfatto, perché vanta un'impugnatura veramente comodissima, ragazzi, veramente comoda. Se avete come me le mani grosse, insomma, il mouse è molto comodo. Ha un'impugnatura ottima, ma con dei ma. Allora, il primo ma è il materiale. Ora, io sono per il materiale liscio. Questo mouse ha materiale ruvido. Ora, il materiale ruvido, che è presente sia qui, praticamente sul dorso, che sul poggiapollice, tende nel corso del tempo, se sudate tanto, con la mano, a consumarsi. Quindi magari adesso è ruvido, bello al tatto, comodo, e poi nel corso del tempo, sudando, sudando, si consuma e diventa liscio. Bisogna farla questa critica. Personalmente l'avrei preferito liscio, però, insomma, è piacevole al tatto. Se non sudate con le mani, insomma, è un ottimo mouse. Come potete vedere, vanta, non so se si vede, sì, vanta un design accattivante. Non è un semplice ruido e basta, ma è, diciamo, particolare, molto particolare come design. Come vedete ha dei LED che, praticamente, possono essere personalizzati tramite il software in dotazione. Quindi, magari, se volete che, come la tastiera, cambia colore di continuo, lasciate così di default, altrimenti installate il software sul computer, modificate i LED e così via dicendo. Il mouse ha un tasto che è molto utile, ma collocato in una posizione, per me, scomoda. Per me, ovviamente. Parlo di questo. Praticamente questo tasto, non so se lo vedete, qui, eccolo, sì, questo tasto qui, praticamente che cosa fa? Quando giocate agli FPS, quando mirate, se tenete premuto questo pulsante, praticamente il cursore diventa molto lento e preciso, quindi vi permette, magari, di puntare alla testa di un nemico molto facilmente, cioè, con la massima precisione, ecco. Dico che è scomodo perché, avendo il pollice in questo modo, quando uso il mouse, a volte mi capita di cliccarlo per sbaglio. Naturalmente non succede nulla, cioè, alla fine, il mouse diventa lento per pochissimi secondi, ma io l'avrei preferito, magari, qui sopra e non qui di lato, insomma. Ma è una questione di punti di vista e di comodità. Naturalmente il mouse di lato, qui, non so se vedete, praticamente, ha i classici tasti che permettono di andare avanti e indietro durante la navigazione web. Abbiamo i tasti, questi qui, per gestire i DPI. Questo mouse arriva fino a 18.000 DPI, quindi è un mouse veramente eccezionale per gli sparatutto. E, come potete vedere, cliccando questo pulsante cambiano anche i LED di lato. E il mouse ci sta dicendo, guarda, adesso sei passato dalla prima, la seconda, la terza configurazione per i DPI. Con questi tasti, invece, potete modificare, diciamo, il colore del mouse e non solo. Va a influire anche sulla configurazione dei DPI, come in questo caso qua. Niente, il mouse è personalizzabile in peso. Praticamente nella parte sottostante, come potete vedere, c'è uno sportello. Adesso lo apro. E qui ci sono i vari pesetti che potete inserire o rimuovere. Di default sono tutti rimossi, quindi aspetta a voi decidere se volete un mouse pesante o un mouse leggero. Personalmente mi trovo con un mouse pesante, quindi li ho inseriti tutti. Una volta che avete sigillato lo sportellino, poi potete utilizzarlo. Personalmente, ecco, trovo alquanto scomodo lo sportellino. Ho paura sempre che si rompa. Niente, detto questo, cioè il mouse è personalizzabile in peso. È estremamente comodo da impugnare se avete una mano grossa come la mia. È realizzato con materiale ruvido, come vi ho detto, quindi se tendete a sudare spesso, io personalmente punterei su altri mouse Corsair che non hanno questa superficie. È un mouse principalmente per il gaming. I DPI sono elevati, è preciso, ha questa funzione di cui vi ho parlato. È veramente un ottimo mouse. Io personalmente ve lo consiglio se siete alla ricerca di una periferica da gaming che non sia proprio costosissima. Parliamo di 90€ all'incirca. Che sia professionale, comodo da impugnare. Insomma, è un'ottima periferica, quindi se avete attualmente 90€ da spendere se siete alla ricerca di un mouse, io personalmente, se non sudate facilmente con le mani, se siete alla ricerca di un mouse con il cavo, mouse professionale, comodo da impugnatura e tutte queste caratteristiche di cui vi ho parlato, io personalmente vi consiglio questo mouse.